Abbiamo fatto un viaggio, letteralmente, sulla superficie del globo. Siamo andati in Germania. Beh ragazzi, buongiorno! E non fa demora! Buongiorno dalla Germania, avviva! Quando l'abbiamo detto che andavamo in Germania, le facce si illuminavano. È una cosa bellissima. No, 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 no! Io penso che questo viaggio implica un viaggio interiore. No, 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 no! Nell'ottobre 2017, sotto la direzione del Centro di Sperimentazione Teatrale La Luna nel Pozzo, gli attori diversamente abili dell'Associazione Il Gabbiano sono partiti da Ostuni alla volta di Heinz und Halles, un centro culturale inclusivo nei pressi di Stoccarda, per realizzare una coproduzione teatrale. La rete di relazioni tra i luoghi, tutto ciò che faceva parte di questi luoghi, gli operatori, i genitori, i ragazzi, i nostri ragazzi, i ragazzi tedeschi, ospiti lì. In una parola è armonia. Un senso di solidarietà profonda e di fratellanza, cioè di comunanza, avere qualcosa in comune, un obiettivo in comune, ma anche proprio dei sentimenti in comune, cioè io mi muovo nella stessa direzione in cui ti muovi tu. Alla prossima! Grazie a tutti Lo spettacolo creato, perfettamente imperfetto, ha visto coinvolti 33 attori italiani e tedeschi che hanno, in dieci giorni, collaborato alla realizzazione. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti